Quella annunciata oggi una manovra tecnicamente ineccepibile sul fronte politico e tecnico della Formula 1 qualifica ancora D.P. Marchionne come uno dei piabili manager che hanno guidato il settore dell'automobile. L'accordo pluriennale tecnico e soprattutto commerciale che lega dal 2018 in avanti non dato sapere la scadenza, ma lecito pensare che non sia inferiore a tre anni i due grossi nomi dell'automobile fa leva sul sentimento e su importanti necessit da ambo i lati. Dal lato Sauber, presto detto la seminascosta factory del canton Zurigo, dove sono passati piloti di spessore come Jacques Villeneuve, Alessi, Massa, Kubica e Rosberg, viveva da tanti anni in un regime di incertezza. Dopo l'era BMW e il mancato accordo con il gruppo Volkswagen ora orientato pesantemente sul pianeta elettrico, il fatto di poter montare finalmente delle propulsioni di prima scelta le permetter di tornare ad ambire come minimo a posizioni e a punti senza indugio. Con la speranza di avere accontratto un bel lambo di grandi piloti, ancora da confermare si spera per l'Eclerc, neocampione di Formula 2 e magari il nostro Giovinazzi, sul fronte Alfa Romeo, invece, il discorso molto più ampio. C il lato romantico, quello che la vide arrivare a grandi risultati in Formula 1 negli anni 70, per poi calare le proprie performance negli anni 80 fino ad abbandonare del tutto fino ad oggi. Anzi, fino al 2015, quando sulla SF15T era riapparso il biscione nel retro, da gennaio, invece, dopo un accordo mancato con la Honda, Alfa Romeo si propone di fornire le unit Ferrari ribrandizzate per l'occasione, Ghiotta, di offrire un vero prodotto di qualità al team P tedesco del Circus, considerando un vantaggio anche il fatto che si tratta proprio dell'unico con la sede in una zona germanofona contro tutti gli altri che si trovano esclusivamente fra la Romagna e l'Inghilterra. Un fatto che porta a tre team muniti dei retrotreni di Maranello, sei vetture che rendono COS Ferrari sempre più importante, direttamente o indirettamente, nella politica di questo sport che, da quando in mani americane, punta a trasformazioni pesanti. Novite per ridurre i costi dal 2021 via MGU-H, P giri motore in limite a una sola turbina ma anche per cercare di uniformare le prestazioni, con il rischio di perdere l'allure di eccellenza che da sempre identifica il campionato di Formula 1 come il re indiscusso del motorsport. A fronte per dei più grandi concorrenti di prodotto tedeschi e non solo, da tempo preparati e per questo oggi presenti sul mercato con tante ibride elettriche GOGO, comunque, capaci di enormi investimenti per rilanciare la gamma nei prossimi anni, Alfa Romeo non può permettersi di perdere ulteriore terreno. Per questo la mossa di aiutare un team ed è sempre simpatico ai tedeschi e, soprattutto, far salire assai le power unit italiane nel campionato, stata più opportuna nell'ambito della reputation negli autosaloni, ma soprattutto necessaria per la sopravvivenza del comparto racing in rosso nel medio e lungo termine. Dulcis in fundo, si tratta pur sempre di una bella notizia per il gruppo in un momento difficile, che va propiziamente a compensare i malumori sul presente e il breve termine almeno di Melfi e Pomigliano d'Arco, per cause diverse legate alla Panda o alle americane. Diversi inoltre gli indizi negativi anche in altri stabilimenti, dedicati solo ad Alfa, nonostante premi e record in singoli mercati importanti come gli Stati Uniti, va stato infatti un calo di immatricolazione in Cina per causare un calo della produzione di Stelvio e Giulia, meno di un mese. fa che si tradotto nella mancata stabilizzazione di 530 interinali a Cassino, e, in generale, ancora difficile da raggiungere l'obiettivo delle 400.000 immatricolazioni annue necessarie per raggiungere una certa considerazione nel segmento premium, non ancora pienamente affrontato nelle aspettative dei clienti pi esigenti, diritti d'autore e riproduzione riservata.